salva un amico ben ritrovati a questo nuovo appuntamento siamo al parco canile di monza gestito dall'empa siamo con lara e con il piccolo pasticcio com'è arrivato in canile a monza pasticcio è stato trovato da solo che girava per le strade della brianza un pochettino zoppicante e quindi è stato portato da noi è stato fatto visitare e adesso è pronto per l'adozione zoppicante perché che cosa ha avuto allora niente di particolarmente grave probabilmente si è rotto il gomito ha preso traumatizzato il gomito in qualche modo in passato e quindi è rimasto un pochettino zoppo però da tutti i controlli che abbiamo fatto è una cosa risolta e rimarrà un pochettino zoppicante ma niente di che quanti anni ha ha circa due o tre anni è un gatto giovane è arrivato già sterilizzato non microcippato e questo mi dà spunto per ricordare l'importanza del microchip anche per i gatti esatto anche perché i gatti spesso vagano insomma e quindi è facile che che vaghino appunto per è pasticcio così dolce sicuramente aveva una casa sicuramente aveva una famiglia che purtroppo non non riusciamo a ritrovare perché non aveva il microchip e quindi nonostante gli appelli è rimasto da noi e cerca una nuova famiglia qual è il suo carattere che come come si sta comportando in canile in gattile diciamo è qui soltanto da poche settimane sì ma è un gatto molto dolce molto molto curioso come vedete deve guardare tutto osserva tutto cerca molto l'affetto il gioco e le carezze è molto dolce va d'accordo con gli altri animali con gli altri gatti non lo sappiamo ancora lui essendo arrivato da poco non ha ancora avuto modo di conoscere altri gatti o di conoscere i cani quindi per il momento ancora quella ancora un incognita dunque qual è l'ambiente la famiglia ideale per pasticcio ma in realtà per lui va bene anche una prima esperienza una famiglia che non ha mai avuto gatti è talmente bravo che non penso ci siano problemi neanche con i bambini neanche con i bambini perfetto dunque pasticcio è pronto per essere adottato chiunque interessato può rivolgersi al parco canile empa di monza per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il parco canile empa di monza al numero 039 835 623 oppure inviare un email a canile at empa monza punto it